Verissimo, Sonia Bruganelli confessa qual è stata la prima reazione che hanno lei e Paolo Bonolis dopo il gossip sulla loro presunta separazione. Sonia Bruganelli, reduce dall'esperienza di opinionista al grande fratello VIP7. È stata ospite di Silvia Toffanina Verissimo. L'imprenditrice romana, che nei giorni scorsi ha smentito pubblicamente i rumors diffusi da Dago Spie su una presunta crisi matrimoniale con Paolo Bonolis. È stata accompagnata dalla figlia Adele. È la prima volta che l'ha terzogenita. Nata nel 2009, appare in tv e in questa occasione ha comunicato di aver intrapreso la carriera teatrale. È bello, mi piace moltissimo questo mondo, lei è timida ma a teatro va proprio spedita. Ha detto Sonia, poi mettendo a tacere le ultime voci sul rapporto con il marito. La Talent Scout ha così replicato i rumors per cui Averissimo avrebbe dovuto annunciare la separazione da Bonolis. Sui progetti lavorativi, che riguardano principalmente la prossima edizione di Ciao Darwin, Sonia ha spiegato. Come nel caso di Milena Miconi, anche l'opinionista non ha accennato a quanto accaduto nella settima edizione del grande fratello VIP. Confermando quelle che sono le volontà della rete. Invece, Sonia ha parlato dell'attuale rapporto con i figli. Specialmente di quello con Silvia, affetta da cardiopatia, spiegando come tale vicenda ha alzato la corazza che mostra pubblicamente. Com merci. Queste sono le nostre belle belle mentelle. Grazie.